Si è svolta ieri pomeriggio, nei locali di proprietà Gargano di Corso Vittorio Emanuele, l'inaugurazione della mostra del concorso di pittura Scopriamo Sala, organizzato dal comune di Sala Consilina, l'associazione Allegra Cuore e dalla banca Monte Bruno. Il tema del concorso alla sua quindicesima edizione è pietre, mattoni e cemento, che ha proposto ai partecipanti di rappresentare con la massima libertà interpretativa ed esecutiva particolarità significative dell'architettura che caratterizza la città. Novità del concorso di quest'anno, l'introduzione del premio Banca Monte Bruno, riservato ai partecipanti residenti nei comuni di competenza della banca e rientranti nelle province di Salerno e di Potenza. I premi previsti sono Premio Acquisto Città di Sala Consilina di 1000 euro e Diploma di Merito, Premio Acquisto Banca Monte Bruno di 1000 euro e Diploma di Merito, Premio Acquisto Sages Soluzioni Tecnologiche di 500 euro e Diploma di Merito, Premio Acquisto Allegra Cuore Franco Capuano di 300 euro e Diploma di Merito al Miglior Artista Salese e infine Premio Giurie Popolare di 100 euro e Diploma di Merito. La mostra è aperta al pubblico dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 e 30 alle 19 e 30 di ogni giorno fino al 30 settembre. I visitatori potranno esprimere il proprio giudizio, così da assegnare anche il premio dedicato alla giuria popolare. La giuria tecnica invece stilerà una graduatoria in base alla quale saranno assegnati i premi Acquisto in denaro, che saranno consegnati la sera del 30 settembre alle ore 20 e 30 in piazza Umberto I. Il quadro, che vincerà il premio Banca Monte Bruno, verrà esposto per un anno al pubblico presso la filiare di Sala Consilina della Banca Monte Bruno e poi consegnato al Comune di Sala Consilina per l'arricchimento della Costituenda Pinacoteca Comunale.